E' con convinzione che sostengo da Napoli la candidatura a sindaco di Palermo di Rita Borsellino non solo per una conoscenza personale che ormai abbiamo da anni il lavoro insieme che abbiamo anche fatto al Parlamento europeo prima che io diventassi sindaco per il suo impegno da tempo in Sicilia per la legalità e per la lotta alle mafie per il cognome Borsellino che ha segnato la storia di Palermo, della Sicilia, del sud del nostro paese sarebbe veramente straordinario se tra qualche mese potessi stringere la mano di Rita come sindaco di Palermo un sud intero che rinnova la classe dirigente, un sud dalla schiena dritta un sud da protagonista nell'unità del paese non più come un sud assistenziale che molla, che collude ma un sud protagonista di un paese diverso un paese migliore di quello di adesso che non ci piace tanto io credo che è una sfida che si può vincere le primarie sono sempre un po' laceranti io non voglio dare giudizio ovviamente sulle altre candidature ma penso che oggi non si possa non sostenere la candidatura di Rita Borsellino che spero vinca le primarie e poi diventi sindaco di Palermo che spero vinca le primarie